Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1, code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. Chiuso il tratto della panoramica tra la variante di Valico e Aglio per lavori. In A11, in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola, i rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla FIPILI, rallentamenti tra la Strassigna e l'allacciamento per la 1 in direzione Firenze per traffico intenso. Sul raccordo Siena-Bettolle, scambio di carreggiata per lavori tra Rigo Magno e Sinalunga e San Gimignanello in direzione Siena. A Firenze è in corso pitti immagine fino al 29 giugno, provvedimenti e modifiche alla circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Grazie.